Cittadini alle urne a Gadoneghe per partecipare alla consultazione popolare indetta dal Comune per il progetto bilancio partecipato 2017. Ognuno potrà votare una delle proposte formulate dalle commissioni consigliari permanenti che hanno individuato sei progetti di utilità sociale. A disposizione ci sono 10.000 euro che saranno destinati a seconda delle preferenze espresse col voto dai cittadini per finanziarne uno. Urne aperte allo sportello del cittadino fino a venerdì.